Sio Stok, ciao a tutti, voglio parlare della questione del veto ungherese polacco, vediamo se si aggiungerà anche quello sloveno sul bilancio europeo settenale e sul recovery fund che tanto l'Italia aspetta. Ora, prima però vorrei ringraziare per la donazione mensile Giorgio, veramente grazie di cuore, per sostenermi immensamente, sostenere il canale, questo lavoro. Ieri mattina c'è stata la solita intervista del primo ministro ungherese Orban Victor alla radio pubblica Kosciut, la solita, dove ha risposto per le rime al filantropone illuminato Dirk Soros e alla sua Unione Europea, al suo giardino di casa, vista l'influenza, le sue visite molto frequenti, anche del figlio Alex Alexander, e l'influenza quindi sugli europarlamentari. Vi riporto le parole di Orban. La persona oggi più corrotta del mondo politico è proprio Soros Giorgio e ora ci attacca, noi e la Polonia, proprio su questo. In questi giorni ha dato gli ordini, i comandi ai burocrati di Bruxelles. Su Project Syndicate, che è il blog personale del filantropone, ha sostenuto delle falsità su Polonia e Ungheria, a cui moltissimi politici, giornalisti, soprattutto dell'Ovest europeo, credono o fanno finta perché pagati direttamente per condividerle. Lui è quello che corrompe i politici europei, soprattutto gli stessi che adesso, come sempre, ci ricattano. Nelle questioni comunitarie devono essere i capi di governo e non uno speculatore finanziario a decidere, a discutere ancora prima. Ci sono già stati scontri sul bilancio europeo in passato. L'UE, infatti, è fatta di 27 Stati membri, con interessi anche molto diversi. L'importante è che non prevalga un approccio politico ideologico senza criteri oggettivi, utile a ricattare Stati membri, come Polonia e Ungheria. Sarebbe una seconda unione sovietica. Pensiamo alle parole di Di Maio, che vorrebbe in questi giorni a proposto di togliere il diritto di veto, una cosa dittatoriale. La soluzione sta nel rispettare, come nella bozza di luglio, approvata anche da Polonia e Ungheria su bilancio e recovery fund, cambiata ora da Bruxelles per ricattare queste due nazioni. La soluzione quindi sta nel rispettare la sovranità sull'immigrazione. Non possono obbligarci ad accogliere. Nel voto è venuto fuori che l'Ungheria deve assolutamente aprire i confini meridionali ai migranti, per implicito detto anche dalla von der Leyen ieri e avanti ieri. Non importa se la maggioranza dei cittadini rifiuta questo. Abbiamo il diritto ad opporci, ecco. Ci vogliono togliere questa facoltà attraverso i loro bla bla bla. Come sullo stato di diritto. Arma universale, questo lo dico io, perché indefinita. Sono diritti quelli neoliberali, solo quelli neoliberali, che per esempio negano la biologia? Simile all'accusa di capitalista contro il proletariato durante l'Unione Sovietica, sotto il comunismo. I soldi non c'entrano nulla, dice Orban. I soldi dall'Ungheria non si possono togliere. Per costruire le infrastrutture servono sì i prestiti, che però possiamo ottenere anche senza l'Unione Europea. Perché siamo un paese stabile, a differenza del 2008, dalle macerie lasciate al governo socialista liberale di allora di Djurján. Posso dire che gli investimenti per il prossimo decennio in Ungheria saranno comunque fatti, indipendentemente dagli attacchi politici comunitari europei. Sull'attacco di Soros alla sanità ungherese, siamo lontani dalla crisi ospedaliera. 7.512 posti in ospedale occupati, 604 con ventilatori polmonari, 13.594 posti liberi nei reparti Covid e 1.689 con ventilatori. Sul personale ospedaliero, se ci sarà un'emergenza, gli universitari daranno il loro contributo per dare una mano, come avviene tra l'altro in molti altri paesi europei.